Ciao, sono Marco, sono il coordinatore del Regretto del Violino. Qual è il mio ruolo qua? Mi occupo sostanzialmente di coordinare gli animatori e i bambini in questa realtà abbastanza viva, che è quella del Violino, che presenta molti animatori, 56 quest'anno, dal 2003 fino al 2000. Sono animatori molto impegnativi, direi, che si conoscono da molti anni. Il mio ruolo con loro è quello di cercare di tirare fuori da ognuno di loro il talento e la capacità che hanno di prendersi cura dei bambini che li sono affidati e in ogni ruolo che a loro è più consono. Quest'anno abbiamo fatto 180 iscritti, questa settimana. Anche questi sono ragazzi gioiosi e impegnativi che si conoscono da molti anni. molto competitivi, il nostro Regretto si basa molto, direi, su attività e giochi e il nostro impegno è coordinatore, non solo, ma anche assieme agli ragazzi giovani della parrocchia, è quello di riportare un po' sempre al senso di fraternità che cerchiamo in ogni comunità, anche le attività pastorali del Regretto. Diciamo che il Regretto è un po' la mia attività, diciamo, quasi quotidiana, è una cosa che conosco e su cui credo molto e penso sia un grosso impegno e un grosso investimento per tutte le parrocchia, soprattutto per i giovani e adolescenti che hanno un modo di esprimersi all'interno del loro oratorio, della loro comunità, soprattutto mentre c'è il servizio. Il nostro Regretto è strutturato in questo modo. La mattina, dopo un momento di accoglienza, facciamo un'ora di scenetta legata al tema, di preghiera in cui riflettiamo un po' sulla giornata precedente e quello che sarà il nostro impegno quotidiano. Facciamo poi due ore di giochi per poi andare con una pausa pranzo al mezzogiorno alle 2, in cui si fermano non tutti i bambini, ma solo circa il 50%, per poi ricominciare durante il pomeriggio, per poi ricominciare durante il pomeriggio ancora con un'ora di attività nei laboratori, magari nelle ore più calde, in cui possono scegliere tra i laboratori di art attacchi in cui fanno dei lavoretti, i laboratori di ballo, possono scegliere il laboratorio di sport in cui mettersi in gioco e vivere lo sport di squadra, lo stare a semi-squadra, e il laboratorio di murales in cui cercano di abbellire l'oratorio. I laboratori sono un momento per i ragazzi in cui possono dare sfogo alla loro immaginazione, così da creare oggetti di vario tipo, adesso stiamo preparando dei vasetti per piantine, ma abbiamo creato anche sculture con il DAS. È molto bello vedere i ragazzi che si mettono all'opera, collaborano tra di loro, e quindi c'è una sorta di feeling. Il laboratorio di balletti è suddiviso in due gruppi, quello per i piccoli e quello per i grandi, e lo scopo finale di questo laboratorio è quello di presentare una coreografia da far vedere ai genitori e a chi verrà alla festa del Grest. Questo balletto a me è sempre piaciuto tantissimo da quando sono bambina, ho sempre fatto anche questo laboratorio, perché permette alle bambine innanzitutto comunque di muoversi, di sfogarsi, come per i maschi magari può esserci lo sport, loro si divertono a ballare, e in più può essere un modo magari anche per farle uscire dal guscio e permettergli comunque di presentare qualcosa ai genitori, divertendosi e ballando con noi tutti i giorni. I giochi sono suddivisi in diverse fasi. La mattina li chiamiamo giochi a tema e si giocano principalmente squadra contro squadra o tre squadre assieme a tre squadre. Questi giochi sono di vario genere e può andare da alce rossa generale, scalpo tutti assieme, ruba bandiere, eccetera, eccetera. E si giocano o nel campo da calcio o da quest'anno anche al parco grande, qua del violino, il parco della musica. Il pomeriggio invece, dopo i laboratori, si svolgono due tornei che consistono in una squadra contro una squadra. Chi vince ovviamente ha più punti e può scalare la classifica, e alla fine del Grest arrivare prima. Per concludere con la preghiera finale, i bands di salute per le 5 e mezza. Il oratorio del violino è un oratorio, diciamo, non è una struttura nuova che si presta però all'esterno a molte attività, a molti giochi esterni e speriamo sempre che non piova, perché abbiamo poche aude rispetto agli iscritti, 250 persone tutti i giorni non è facile da gestire, non sono facili da gestire. Comunque la struttura è buona e ci permette di variare e di poter creare all'incirca 8 giochi contemporaneamente in variazioni del oratorio. La macchina del capo ha un buco nella gomma, la macchina del capo, e rifacciamo, e rifacciamo, e rifacciamo, e rifacciamo, e rifacciamo, e rifacciamo, faremo sì, 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 e rifacciamo, e rifacciamo, anche che fizzi, lo 有 brassцевa è cauta, Grazie a tutti.